Con Maindra Genio carichi e scarichi velocemente il tuo materiale. È versatile, potente e molto spazioso. Inoltre è dotato di ESP e 3 anni di garanzia. E può essere tuo a soli 9 euro al giorno senza anticipo e senza maxirata finale. Vieni a vederlo. Lo trovi presso Continuo Veicoli in Viale Leonardo Sciascia 4850 ad Agrigento.